Scommetto che come tanti ti stavi chiedendo qual era il social migliore per riuscire a crescere su Twitch se porti gaming. Fino ad ora sono convinto che avrei utilizzato TikTok o al massimo i Reels di Instagram. Bene, oggi siamo qua per scoprire un nuovo social dedicato al mondo gaming e streaming. Questa applicazione si chiama Slingshot. Che cos'ha di particolare? Semplicemente è un social dedicato esclusivamente al mondo gaming e quindi vi permetterà di avere un pubblico targettizzato e interessato a questo argomento. Non vedo l'ora di provare questa applicazione con voi. Nel frattempo vi lascio qui sotto in descrizione la mia pagina ufficiale di Slingshot. Mi raccomando, venitemi a seguire perché pubblico tutte le clip del mio mondo gaming. Vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi tutti i video in uscita. Inoltre mi trovate in live su Facebook Gaming e qui sotto in descrizione vi lascio il nostro canale Telegram pieno di offerte per gamer e streamer. Non solo, vi lascio anche il nostro sito Improve Your Streaming con tantissimi servizi in ambito streaming. Noi ci vediamo subito dopo l'intro. Buona visione! Cosa c'è di meglio delle emote di Twitch? Eh, sicuramente le emote animate di Twitch. Tieniti pronto perché Oned ha tirato fuori una perla fantastica, ovvero le nuove emote per i vostri iscritti animate. Questi vivaci compagni conquisteranno il cuore dei tuoi spettatori in un batter d'occhio. Oned TV è il più grande store per streamer al mondo, con più di mille emote aggiungibili immediatamente nel tuo canale Twitch. Cosa stai aspettando? Aggiungi subito 8 emote animate e statiche al tuo profilo. E non dimenticarti di utilizzare il codice streaming per avere subito il 50% di sconto. Allora, siamo sul sito ufficiale di Slingshot. Non è che c'è niente da fare qui, in realtà si fa tutto da telefono, però ve lo volevo far vedere. Questa applicazione promette di far crescere la vostra community in maniera veloce e semplice. Vedremo se è vero. Passiamo alla descrizione di questa applicazione. Fondamentalmente funziona un po' come TikTok, è un content discovery. Ovvero avremo una home dove sfogliare tutte quante le clip dei giocatori che pubblicano ovviamente i loro contenuti all'interno. La differenza è che qui abbiamo un pubblico targetizzato, quindi le persone che andranno a scaricare quest'app, o sono dei creator che giocano, oppure sono degli spettatori che guardano creator giocare. E quindi siamo sicuri che non ci sarà tutta quella fetta di persone che abbiamo ad esempio su TikTok. Il funzionamento è molto simile a quello di TikTok, ovviamente mancano tantissime funzionalità che magari verranno implementate col tempo, ma ce ne sono delle altre che su TikTok non ci sono e le andiamo a vedere. Be yourself with amazing skins. Questa è la parte geniale dell'applicazione. Nel senso che hanno creato una moneta con la quale possiamo andare ad acquistare delle skin e queste skin, oltre a mettere una foto profilo, andranno a creare un contorno davvero molto carino nelle nostre clip, nella home. Questa è una maniera molto interessante per monetizzare l'interno della piattaforma. Nella parte bassa troviamo quello che pensano le persone di questa applicazione, ma ora andiamo direttamente sul nostro iPhone a provarla e vedere effettivamente com'è. Allora, siamo sul nostro iPhone, andiamo a scaricare l'applicazione che si chiama Slingshot. La possiamo trovare sia per iPhone sia per Android. Io l'ho già scaricata, quindi semplicemente andrò a fare apri. Una volta aperta l'applicazione, questa qui è la home. Somiglia molto a quella di TikTok, infatti se sfogliamo verso l'alto troveremo le clip dei vari creator. Quindi non entreremo dentro al profilo di un creator, ma vedremo semplicemente le clip. Se avete un occhio fino avrete già notato che le clip hanno dei contorni differenti. Infatti la mia qua su in alto ha un contorno viola, questa qua ha un contorno bianco, quest'altra ha un contorno tipo dorato, eccetera. Prima di spiegarvi perché hanno un contorno diverso, andiamo a fare una panoramica. Di fianco al tastino home abbiamo il tastino della ricerca. Qui possiamo ricercare i creator, potete venirmi a cercare. Mi chiamo M89 Gamer, tutto attaccato, mi raccomando venitemi a trovare perché stiamo facendo questo esperimento su Slingshot, quindi guardando il mio profilo capirete se questa applicazione funziona o meno. Perciò venitemi a seguire. Vi lascio il link comunque qui sotto in descrizione. Quindi come vi dicevo, qui nella zona di ricerca possiamo cercare un creator o possiamo cercare un gioco. Ok, cliccando semplicemente sul pad qui di fianco facciamo cerca un gioco. Con il tastino più possiamo andare ad inserire una clip all'interno del nostro Slingshot. Possiamo prenderla dalla galleria, possiamo prendere una foto, possiamo fare una live clip, ovvero una clip istantanea, nel senso che la facciamo proprio in questo momento. Possiamo registrare al volo qualcosa e buttarlo dentro. Ora vi mostro come caricarne una dalla galleria. Buttiamo ad esempio dentro un mio TikTok. Una volta compresso ci ritroveremo in questa situazione. Qui possiamo scrivere un titolo, ad esempio un test. Nella descrizione possiamo scrivere quello che ci pare. Dopodiché selezioniamo un gioco. Allora, qui non esiste il Just Chatting. Questo sarebbe semplicemente un Just, ma se fate Just Chatting vedete che non appare nulla. Perché è dedicato solamente ai giochi. Pertanto dovremo per forza metterlo dentro un gioco. Quindi facciamo, che ne so, Grand Theft Auto. Eccoli qua, qui ce ne sono diversi. Grand Theft Auto 5. Ovviamente la clip non c'entra un cavolo. E poi facciamo invia. Con invia verrà pubblicato e lo ritroveremo all'interno del nostro profilo. Ora non lo faccio perché è una clip inutile. Questo qui è il nostro profilo e ritroveremo i nostri Slingshot qui sotto. Io ne ho pubblicati tre, anche se in realtà non si vedono perché il primo è completamente nero, ma in realtà c'è. Questi qui sono quelli che ho pubblicato io all'interno del mio profilo. Uno, due e tre. In questo momento quello che ha più visualizzazioni è quello di GTA con 28 visual e 5 like e 0 commenti. Da quello che sto vedendo per adesso dall'applicazione si lasciano più like che commenti. Vi consiglio di collegare il vostro canale Twitch e per farlo basterà cliccare sui tre puntini e fare connetti a Twitch. E ovviamente di condividere il link del vostro profilo il più possibile. Io lo metterò qui sotto nella descrizione di questo video. Mi raccomando, cliccatelo e andatemi a seguire quando scaricate l'app. Un'altra cosa che volevo farvi vedere sono i beige. Non vi interesserà subito appena aprite il canale perché ci metterete un po' per avere follower, visual e like. Però se noi clicchiamo su beige possiamo vedere quali sono i requisiti per ottenere il beige da content creator. Ovvero ci vorranno 30 follower, 100 like e 700 visual. Quindi sono veramente pochi e penso si raggiungano abbastanza in fretta. Il beige in questione possiamo vederlo se clicchiamo su list. Questo qui è il beige, questo qui è arancione. Quando avremo quello siamo definitivamente creator di Slingshot. L'iconcino con la maglietta ve l'ho lasciata per ultima perché in realtà eravamo già all'interno. Ed è quella dello store delle skin. Se l'hanno inserita nel menu significa che gli interessa parecchio che noi acquistiamo le skin. Ed è evidente perché è l'unica fonte di guadagno per ora. Vi faccio vedere quanto costano le monete. Abbiamo 1 euro 210 monete, 650 1 euro 99 eccetera. In linea di massima se volete acquistare delle skin dovete prendere quella da 8 euro 99. Perché vi dà 2350 monete e riuscite a comprare tranquillamente due skin da 1200. Non vi so dire quando usciranno le skin, come vedete sono tutte bloccate. Però secondo me settimanalmente ruoteranno. E quindi sarà sicuramente un buon modo per sputtanarsi dei soldi. Se da store clicchiamo mie andremo sulle nostre skin. Bene ragazzi abbiamo fatto una panoramica di tutto quello che sono le funzionalità di questa applicazione. Io spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto vi sia utile. In tal caso mi raccomando pollice in su e qua sotto in descrizione cliccate il link e venite a seguirmi su Slingshot. M89 Gamer senza trattino. Perché evidentemente il trattino non lo prendeva, non so per quale ragione. Vi ricordo che mi trovate in live su Facebook Gaming se volete vedermi giocare. Oppure in live su Twitch se volete vedermi fare Just Chatting. Qui sotto in descrizione trovate come sempre anche il nostro canale Telegram pieno di offerte per gamer e streamer. E il nostro sito Improve Your Stream con tantissimi servizi in ambito streaming. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima e buona streaming a tutti.